E salve a tutti gente io sono Manu007 e oggi raga benvenuti in questo nuovissimo video delle sponsorizzazioni Oggi raga sponsorizzeremo il canale che mi ha fatto la intro E raga io vi consiglio di iscrivervi a questo canale perché fa delle intro davvero ma davvero stupende E comunque spero che questo video vi piaccia E se volete essere sponsorizzati mi raccomando scrivete nei commenti hashtag ManuSponsorizzami E lasciate un like e vi dovete iscrivervi al canale E comunque vi lascio il video, buona visione, vai con la figa Grazie a tutti